Amici di Sportissimi, ciao da Savo Cerazzi, siamo live dal Giovanni Alioizio di Misilmeri, provincia di Palermo e Don Carlo Misilmeri, Castellammare, ventiquattresima giornata del Girone A di eccellenza siciliana. Protegge Logerco verso l'interno dell'area con Lavardera, deve scaricare però Romano da fuori, il pallone dentro, Zumo decisivo, va ripropone per il portiere della Misilmeri, Federico, si libera di un avversario anche di un secondo per pochissimo, la riprende Romano il tiro respinto, Misilmeri sempre al limite che ci prova, gli ha piazzato centrale però da parte di Logerco, la battuta centrale di Calagna. Bella è, le gole, le gole, non c'è nulla secondo l'arbitro. Pellegrino verso Ricciulli, la fronteggia Remusso, Ricciulli, serie di finta, cross in mezzo, dentro per Bovisic. Va al limite, Calagna calcia di prima, di testa Messina, la prende Romano, un lancio morbido, profondo per Povisic. Povisic aveva segnato la segnalazione delle guardaline. C'è la pressione di Mattia Tranovaci, pensa Ricciulli a continuare, ancora Ricciulli, Messina, non c'è nulla, ancora una volta secondo l'arbitro. Calagna vince il rimpallo e continua a calci a Calagna. Cross in mezzo, con la deviazione cercata da parte di Logerco dalla distanza. Miliziano ci prova. Ricciulli, l'appoggio verso la porta. Calagna, è stata segnalata posizione di fuorigioco. Poi Frisella, si gira con rapidità la conclusione di Danilo Terranova. Zumo, grande parata. La Vardera, al suo sostegno arriva Riccardo Pellegrino, che ha spazio per andare avanti. Calcia però, oltre la traversa. Scambia. Più volte. Con i compagni il Misimeri va anche al tiro, con il pallone che sfiera il paleo. La conclusione di Miliziano. Misina. Musso va, spalla alla porta. Di nuovo per Musso, che si infila in mezzo, due. Calcia, palla, il gol! Il gol di Musso! Il pallone lento, che alla fine si è inzaccato alle spalle di Zumo. Il Castellammare passa avanti con il secondo gol in campionato di Leonardo Musso. La dedica speciale per il centrocampista. Pellegrino ha trovato l'angolino, ha trovato il gol dell'1-0. Miliziano scambia nuovamente il Misimeri romano dalla distanza di Paula. Cosentino, Ricciulli, lato corto, cross in mezzo secondo palo verso Matera. Colpo di testa, in mezzo esce di Paula. Bertoglio, un po' così, allontana Amato. Sheriff, palla al piede. Verticalizzazione per Maltese! La parata di Di Paula, ma è tutto fermo per fuorigioco. Sponda di Maltese, scambio con la Vardera. Aria di rigore, cade in aria. Non c'è nulla. Secondo Russo di Acireale. Batte Sheriff in mezzo di testa. Schiacciare per toio di Paula Fallo. Arriva Danilo Terra Nova che si l'allunga. Cosentino voleva mantenerla giù. Piano per ingannare l'avversario. Va, cade. Pallo. Espulso Riccardo Pellegrino per doppia munizione. E' ufficiale il colpo della Castellamare in casa della Don Carlo Misimeri. 1-0 la decisa Leonardo Musso. Piano per indignare l'attolazione dell'attolazione 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 del più nuovo. Grazie a tutti